Buongiorno a tutti, oggi a Reale ingresso strada stradale 162 centrodirezionale di Napoli guardate là, guardate questo è l'ingresso della rampa che portava alla tangenziale il sistema dello scolo acqua è scomparso c'è una grossa crepa, si può notare c'è una grossa crepa sotto alla piastra della rampa è praticamente una cascata del Niagara ci siamo allagati, come sempre eccola là guardate in che condizioni noi dobbiamo vivere perché le grosse potenze sono abituate a mangiarsi soldi per le manutenzioni ordinarie e straordinarie ecco come funzionano in Italia i grandi sistemi autostrade strade statali, strade comunali tangenziale di Napoli che la state distruggendo questa città ve ne dovete andare dovete andare via da questa città non la meritate buongiorno guardate qua che vergogna